E' sempre in tema di problemi per la sanità, c'è preoccupazione dal mare e fino all'altipiano carsico per l'incertezza sulla figura di un medico di base stabile. L'attuale sostituto di una collega in pensione, riferimento per 1500 pazienti appunto dal villaggio del pescatore fino a Reppen, sta per concludere il suo mandato. Evaciuca. Non vuol sì, non voglio cambiare ogni mese un medico, eccetera, eccetera. Va bene questo dottore, va bene, gentile, va bene. Ma insomma, se è possibile che resti questo, io sono molto felice. Un medico che è quasi un amico di famiglia il cui mandato sta per scadere, intanto l'azienda sanitaria ha organizzato un concorso e un nuovo medico entrerà in servizio nei prossimi giorni. Ma i pazienti del dottor Mauro Baez, che sono in prevalenza anziani, si sono affezionati e non vogliono più cambiare. La gente ha la netta percezione che nei luoghi dove si decide le esigenze reali del territorio e della popolazione siano l'ultimo dei problemi. Io non dico che sia così, però di fatto questa è la percezione che ha la gente, io ho avuto modo di constatarlo in questi mesi. E così è partita una raccolta di firme, sottoscritta da una settantina di cittadini, presentata all'azienda sanitaria che ribadisce che i protocolli sono stati rispettati e che è disponibile per confrontarsi sulle esigenze del territorio. Rappresentata in questo caso dalla consigliera con delega per le politiche sociali al comune di Duino Aurisina, Annalisa Delrico, che parla di una situazione complessa perché due sono i diritti da rispettare, ha detto. Quello di un professionista che ha vinto un concorso, ma anche il diritto dei cittadini alla salute e alla libera scelta del proprio medico.